Le prime tracce della famiglia Corsini risalgono al 1200, quelle scritte. Si intrecciano strettamente con la storia della Toscana e dell'Italia. La storia delle Corti invece nasce nel 1360 quando fu acquistata dai primi campi, i primi terreni. La mia storia alle Corti comincia nel 1992 occupandomi della coltivazione della vite per produrre pianti classico. Fino ad allora la coltivazione era tutta improntata sulla salvaguardia del capitale, che era la cosa fondamentale. Oggi continuiamo questa tradizione con la coltivazione biologica, quindi diamo più di quanto prendiamo. Questo ci ha permesso di ricevere oggi queste proprietà e pensiamo di poterle tramandare nel futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.